Ci sono molti modi di supportare e assistere le persone che soffrono per una malattia. Noi abbiamo deciso di farlo, sviluppando farmaci innovativi ed offrendo servizi all'avanguardia per i pazienti, per i familiari e per il personale sanitario che li ha in cura. Un supporto continuo, grazie alle nuove tecnologie, per offrire soluzioni di alto valore scientifico, sperimentare nuove idee, sviluppare la ricerca ed introdurre programmi innovativi, com'è nel nostro credo. Per questo ci impegniamo a mettere a disposizione siti web, applicazioni, progetti legati ai social network, servizi digitali pratici, utili e scientificamente aggiornati. Le nuove tecnologie per sviluppare soluzioni di assistenza sanitaria integrate e sostenibili, basate su partnership di fiducia e trasparenza. Per dare le risposte migliori, in qualsiasi momento, in ogni luogo. Per essere il partner di fiducia, sempre al fianco di chi ne ha bisogno.